Agente localizzato Identità confermata Buongiorno, signor Hunt, mi piace di aver disturbato la sua vacanza Signor Hunt, non so da dove cominciare Lei mi conosce? No, dovrei Non è preparata per una cosa di questo tipo Per andare a letto con l'uomo che le ha mentito è una donna, non avrà problemi Benvenuto in Australia, soggio Non è divertente Abbiamo a che fare con la madre di tutti gli incubi Non credo di potercela fare Vuol dire che sarà difficile Molto Non è missione difficile, signor Hunt, è missione impossibile Difficile sarebbe uno scherzo per lei Puoi scherzare? Il messaggio si autodistruggerà tra 5 secondi Di quantoADo di non trovare Ancontruggerà tra 5 secondi Ancontruggerà tra 5 secondi Alcontruggerà tra 6 secondi La madre di più Conustruggerà tra dei costi